Continuiamo a raccontare altre storie, ovviamente rimanete collegati, anche tu Edoardo con Giorgia e l'avvocatessa qualora vogliono e volessero intervenire. Sibora era molto giovane quando si trasferisce da Nettuno a Torre Molinos in Spagna insieme al suo fidanzato. Nel 2014 la ragazza sparisce nel nulla. Elisabetta, la mamma, chiede ripetutamente al compagno di aiutarla a trovare la figlia. Ma per nove lunghi anni non se ne sa più nulla. A giugno di quest'anno l'ex fidanzato di Sibora viene arrestato per aver accoltellato la sua attuale compagna. E nel corso delle indagini la polizia spagnola scopre il corpo di Sibora murato dietro ad un intercapedine della casa. Copertina. Tu per noi in questi anni sei stata la nostra farfalla, irraggiungibile ma sempre dentro di me. Ultima volta che avevo visto mia figlia in Italia nel giugno 2014 mi aveva raccontato che Romeo era cambiato, era diventato violento e possessivo e che voleva lasciarlo. Non ho più avuto notizie di mia figlia per nove lunghi anni. A fine maggio di quest'anno venivo a sapere che Romeo Marco era stato arrestato in Spagna per aver assassinato la sua attuale compagna Paola con quattordici portellate e che al commissario spagnolo avesse dichiarato di aver ucciso e murato mia figlia Sibora nella casa in cui abitavano nel 2014. La polizia spagnola aveva rinvenuto un catavere in un intercapedine del muro. Era mia figlia. Allora la mamma di questa ragazza è qui in diretta, si chiama Elisabetta. Per nove lunghi anni ha cercato il lungo e il largo sua figlia, non sapeva che fine avesse fatto. Poi il compagno della figlia è stato arrestato per aver aggredito quella che era la sua attuale compagna e si è scoperto l'orrore. Aveva ucciso la figlia di Elisabetta, Sibora, e poi l'aveva addirittura murata dentro l'appartamento dove vivevano. Come sono riusciti a scoprire tutto i poliziotti spagnoli? Quanto è successo che lui ha cortellato l'attuale compagna, a me mi ha mandato un messaggio ex attore di lavoro dove lavorava e mi dice che il Gaio, perché c'è un soprannome Gaio, ha ucciso così un domani, vado subito a polizia e faccio un controdenuncio per la scomparsa di Sibora. Poi insieme con le sue amiche siamo fatti un corteo per la verità. Lui ha ucciso anche l'attuale compagna, l'aveva aggredita, coltellata e uccisa? Uccisa. Esattamente con le stesse modalità, compagna e madre di suo figlio peraltro. Mette in atto sempre lo stesso schema omicidiario, le colpisce alle spalle con delle coltellate. Anche lei voleva lasciarlo come Sibora e quindi segue un copione preciso evidentemente. Quando è scomparsa Sibora, voi avevate fatto denuncia di scomparsa alla polizia spagnola e anche a quella italiana? A quella italiana e a quella spagnola pare che l'avesse fatta lui, così diceva, però poi non se ne sono mai rinvenute le tracce. Ma la mamma l'ha fatta sia in Italia che in Spagna. Sappiamo che la polizia è intervenuta per ben tre volte in quella casa, quindi diciamo che è un tipico caso di scomparsa a chilometro zero. non era andata poi tanto lontano. Probabilmente non potevano pensare che ci potesse essere un intercapedine nel muro. E infatti dopo che lui non ha propriamente confessato quando lo hanno arrestato per l'omicidio della compagna Paola. In realtà lui se l'è lasciato scappare. Lui è entrato in commissariato e si è trovato di fronte alla bacheca con le persone scomparse, tra cui c'era l'immagine di Sibora. E ha sussurrato ai poliziotti che lo accompagnavano, gli ha detto anche lei l'ho ucciso, però lei l'ho messa nel muro. Quando poi nell'espletamento di tutte le formalità gli hanno rifatto la domanda, ovviamente lui ha ritrattato. Ma la polizia a quel punto ha affinato le ricerche con una tecnologia abbastanza avanzata, insomma con una sorta di raggi X. Hanno verificato che ci fossero o meno delle tracce particolari anche all'interno della casa e quindi hanno rinvenuto questa intercapedine in cui si notava qualcosa al di là della parete. E quindi poi hanno scoperto che c'era il suo cadavere, sistemato anche in una maniera abbastanza macabra. Elisabetta, ti aveva mai parlato tua figlia di questo ragazzo, di quest'uomo? Sì, lei a me mi ha parlato ma non mi ha detto tanto che lui la trattava male. A sua amica sì, e ha confessata che lui la amenava e la minacciava. Ma sua amica non ha avuto mai coraggio di dire la verità, ha detto solo dopo nove anni. A me mi dice... Per cui tu quando gli chiedevi dov'è mia figlia, tu non ti fidavi di lui? A me non mi ha fidato mai di lui. Però io non pensavo che era una cosa fatta con... Che lui ha pensato, pensava a un incidente. E io ho pregato. Lui è venuto anche a casa mia dopo tre mesi che polizia spagnola ha tenuto non uscire da Spagna. Quando si è ritornato, si è veniva tutti i giorni e io gli faceva un caffè l'assassino di mia figlia. La vedeva io e gli diceva sempre Gaio, dimmi la verità, non è che è successo qualche incidente? E' un schiaffo, si è caduta male. No, Elisabella no, mi vedeva proprio ai occhi e mi diceva no, non è vero. Falso. Falso fino all'ultimo. Fino all'ultimo. Infatti quel giorno che ho visto il video quanto ha ammazzato quell'altra povera ragazza, ho detto eccolo, mia figlia non ci sta più. Le posso fare una domanda, avvocatessa? In entrambi i casi, sia nel caso della figlia della sua Elisabetta e sia in Paola, mi sembra di capire quest'altra vittima che c'è stata. in entrambi i casi le donne lo stavano lasciando o lo avevano lasciato? Lo avevano già lasciato. Lo avevano già lasciato, sempre perché era violento. Probabilmente sì, sempre per la sua condotta violenta, ossessiva. Allora vorrei rimanere su questo particolare, su questo dettaglio, su questo dato. Carlotta Ricci collegata con noi. Filippo ha ucciso Giulia, Giulia lo aveva lasciato, Giulia doveva laurearsi e credo un giorno dopo, due giorni dopo, andarsene addirittura da Vigo Novo. Doveva andare in Emilia, Reggio Emilia, per affrontare quello che era il suo futuro, la sua vita, la sua carriera. Carlotta, rimaniamo su questo dato e su questo voglio ragionare. oggi riflettere su questo, l'uomo che viene lasciato, che non accetta di essere lasciato. A te Carlotta. Questo della laurea, questo che citavi, è stato un elemento molto ponderato, soprattutto nei giorni in cui ci si chiedeva che fine avessero fatto, nei giorni in cui la famiglia lanciava gli appelli e ci ha detto una mattina il papà di Giulia, una mattina come tanti in cui ha portato fuori a passeggio il cane prima delle otto di mattina, è una delle tante cose a cui si pensa. Probabilmente, forse per Filippo rappresentava veramente uno spartiacque, cioè poteva rappresentare l'inizio dell'allontanamento definitivo da lui, di Giulia, che se ne andava verso il suo futuro. Lei avrebbe voluto frequentare un corso di fumetto a Reggio Emilia. Sul suo profilo social ci sono i fumetti che disegnava Giulia. Questa mattina sui quotidiani c'era anche un'intervista alla sua professoressa che elogiava il suo tratto, molto fresco, era quasi uno stile un po' fumettistico. Comunque Giulia era sicura di quello che voleva fare nel suo futuro. A Filippo mancavano ancora tre esami, quindi non tantissimo. Poi si sarebbe laureato anche lui in ingegnerie biomediche alla stessa università, dove tra l'altro si erano conosciuti all'Università di Padova. Però chissà che veramente non abbia avuto timore proprio di questa giornata che appunto poteva essere lo spartiacque definitivo del loro allontanamento. Anni fisico, diciamo, non solo amoroso, sentimentale, relazionale, che già c'era stato, non dimentichiamo, già c'era stato, ma anche proprio di presenza fisica nel paese dove loro vivevano, nel piccolo paese dove Giulia viveva. Ecco, su questo dato, come dicevo prima, vorrei soffermarmi. L'uomo viene lasciato, l'uomo non accetta il no, l'uomo non accetta la libertà della donna, l'uomo uccide. Allora, su questo fatto, spesso e volentieri, nei processi, giocano le perizie. psichiatriche. Attenzione, attenzione, perché questo invece è un fatto che ha una matrice culturale, anzi una sottocultura, del possesso e del controllo della donna e questo elemento non può essere negato. Catizzone. Condivido ogni parola che hai detto, Eleonora. C'è un fattore ormai evidente di incapacità di accettare il principio di autodeterminazione dell'esercizio dei diritti pieni da parte delle donne e questo, diciamo, è un fattore ormai e fa impressione che sia ancora evidente in ragazzi giovani di 22 anni come il caso di cui si sta parlando oggi. Oggi andiamo sugli altri planeti, visitiamo, eppure ancora il concetto di supremazia dell'uomo nei confronti della donna è evidente. Ed è evidente nella vita di tutti i giorni, nel linguaggio, nei comportamenti, nella quotidianità. ecco, ciascuno di noi deve interrogarsi su quali sono le proprie convinzioni rispetto all'idea che ha della relazione dell'altra persona e si fa questo cambiamento quotidianamente. Non bisogna delegare qualcuno, non bisogna delegare solo le famiglie, non bisogna delegare solo la scuola, non bisogna delegare solo le istituzioni. Siamo tutti, tu e tutti, Anna, parte di questo processo, di questo cambiamento. La cosa che più emerge, come sottolineavi Eleonora, è che quando un uomo viene lasciato decide di cancellare e di eliminare una persona. Nel caso di Giulia è stato fatto proprio all'alba di un traguardo importante. Siccome lui, oltre a perdere lei, aveva perso anche terreno nell'ambito professionale, all'universitario, allora ha deciso che l'unica soluzione per sopravvivere emotivamente era quella di eliminarla e qui dobbiamo lavorare. È vero che non si può relegare a un'unica istituzione, alla famiglia, alla scuola, ma intanto anche le madri dei figli maschi hanno un ruolo fondamentale in questo contesto perché bisogna spiegare che la violenza... I padri. I padri. Nasce esattamente quando si vuole prevaricare l'altro. Bisogna insegnare che la violenza nasce quando si vuole prevaricare l'altro. Quindi di lì bisogna partire, nelle scuole, nell'ambito familiare, perché poi giustamente Leonora ha precisato anche i padri, perché un bambino che cresce in un ambiente in cui vede che il padre maltratta la madre sarà un bambino che perpetrerà violenza. Però c'è l'idea anche del possesso fisico, non solo relazionale, ma fisico e sessuale del corpo della donna. Bernardini. Sì, questa è proprio l'oggettivizzazione di cui si parlava prima. Quando l'altro non è più una persona, ma diventa un prolungamento di sé. In questo senso non riesco né a tollerare che l'altro abbia una progettualità, una vita, né a sentirlo e a vederlo davvero. Nel senso, quando l'altro ha un mio prolungamento, io dispongo della sua vita. E questo parla molto della difficoltà identitaria della dimensione maschile, perché stiamo assistendo alla fatica degli uomini che non hanno una forza dentro una propria personalità a sostenere l'emancipazione e la realizzazione lavorativa ed economica delle donne. Diciamo che quanto più si è deboli a livello identitario, tantomeno si accetta che l'altro possa avere magari dei successi e dei traguardi. Noi purtroppo al Telefono Rosa vediamo continuamente storie di questo genere, dove il momento culminante della violenza può essere appunto la fine della relazione, il paventare la fine della relazione, ma non dimentichiamoci che un altro momento critico è la nascita dei figli, perché anche quello è un momento che mette in seria discussione l'identità dell'uomo in termini di ruolo che ha nel rapporto di coppia. Ecco, allora, Parti si vuole intervenire, poi sentiamo altri due che c'è una storia da raccontare. Si smaschera la fragilità maschile, il rapporto tra l'origine della vita, le donne danno vita alle forme della vita, sono il laboratorio di vita col seme dell'uomo. La dipendenza però inizia appena nasci, no? E devi essere curato, alimentato e poi piano 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 conquistare l'indipendenza. Ma il rapporto con la figura femminile è determinante per le donne come per gli uomini. Per gli uomini la fragilità non è riconosciuta, la trasformano in onnipotenza e controllo della donna. È ora di finirla. È ora di finirla. Allora, fatemi raccontare questo.